Gabriele Zappa, il tuo inserimento nel calcio dei grandi va completandosi con questa esperienza, un cambio in panchina. Come stai vivendo personalmente in questo avvicendamento? Sicuramente dispiace perché comunque non è un momento facile e appunto dispiace che il mister Zauri non ci sia più, però deve cambiare qualcosa in noi nell'atteggiamento e adesso vedremo nelle prossime partite e cercheremo di dimostrarlo. Secondo te cosa non andava nell'ultimo periodo in particolare con Zauri? No, non è con Zauri, secondo me era qualcosa nostro che non si può spiegare perché comunque noi nelle menti andiamo sempre al massimo, cerchiamo di impegnarci sempre per appunto affrontare la partita nel migliore dei modi, però non è arrivata questa cosa nelle ultime partite. Nel tuo ruolo c'è tanta concorrenza ma Zauri aveva dimostrato fiducia nei tuoi confronti perché comunque hai giocato diverse partite da titolare. Sì, sì, infatti sono contento e lo ringrazio il mister per le opportunità che mi ha dato e adesso vedremo anche con il mister Le Grottaglie. Spero di potermi ritagliare il mio spazio. E con Le Grottaglie come lo stai vedendo in queste prime sedute? Come si lavora con lui? Sicuramente è bene, come avevo già detto con il mister Zauri, con il fatto che hanno giocato tanti anni in Serie A, possono darci molti consigli e possono appunto darci la loro esperienza direttamente sul campo. Sei preoccupato per la classifica, al di là del momento, però è una classifica nella quale Pescara non riesce a rientrare nel treno delle migliori e si comincia ad avvicinare la parte più pericolosa? No, preoccupato no, perché comunque ci sono ancora tante partite, però ovviamente dobbiamo cercare fin da subito di portare a casa qualche risultato. Pordenone è la rivelazione del campionato, sarà il vostro prossimo avversario. Che squadra è? È una squadra molto forte e abbiamo visto che sono bravi nelle ripartenze. Non sarà una partita facile, ma noi daremo il massimo per portare a casa il risultato. L'ultima battuta sulla situazione del tuo ruolo, perché con Balzano ancora fuori, con Vittorini che è andato via, insomma ora c'è un po' più di campo da poter sfruttare a livello di concorrenza? Sì, sicuramente. Adesso siamo io e Matte, per questo momento io e Ciofani, che ci giochiamo il posto e io darò il massimo negli allenamenti per cercare di giocare da titolare. Grazie.